La regione siciliana diffida l'AMAP. In una nota inviata ieri, infatti, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti scrive all'azienda che gestisce l'acqua affinché operi immediatamente una riduzione dei prelievi degli invasi del 50%. Altrimenti detto, avviare il razionamento dell'acqua che fino ad ora sia il Comune che l'AMAP hanno cercato di congelare in attesa della dichiarazione dello stato di calamità arrivato dal governo giovedì scorso. I tecnici della regione riepilogano lo stato dell'emergenza in città. Il punto è che se anche se i livelli degli invasi stanno risalendo grazie alle piogge abbondanti degli ultimi giorni, la situazione rimane critica. Dopo la dichiarazione dello stato di calamità, l'AMAP ha atteso indicazioni da Nello Musumeci, nominato commissario per l'emergenza. Ma a Palazzo d'Orlean non sono ancora arrivate le ordinanze della Protezione Civile Nazionale che dovrebbero indicare la strada da seguire. La risposta del sindaco Orlando non ha tardato ad arrivare. Mentre tornano le piogge e la neve ci auguriamo che non tornino anche le vecchie pratiche di insensibilità e disattenzione istituzionale che tanti danni hanno portato alle nostre comunità e che hanno responsabilità gravissime nell'attuale situazione di crisi, almeno tanto gravi quanto la carenza di precipitazioni. Ho rappresentato al presidente Musumeci che il provvedimento emesso dai suoi uffici non è sostenibile per la città di Palermo. Continuiamo a pensare che qualsiasi provvedimento debba e possa essere adottato dal commissario straordinario, che avrà il quadro completo della situazione, degli interventi necessari e possibili ed anche delle risorse disponibili. Auspico, conclude il sindaco Orlando, che grazie alla ritrovata sinergia tra le istituzioni, grazie al commissariamento deciso dal governo e alla collaborazione della struttura commissariale, degli enti gestori e degli enti locali, si possano finalmente avviare interventi organici e risolutivi della situazione.